Assessore, quello dei cinghiali è diventato un problema enorme? Diventato un problema a livello nazionale, prima lo stavo sottolineando, abbiamo avuto ieri la Commissione Politica Agricole e nell'incontro che avevamo con il Ministro, al primo punto, anziché mettere i tanti problemi che ha l'agricoltura in generale, addirittura è stato posto in evidenza questo problema, questa crescita a dismisura come numero da parte dei cinghiali, perché non è solo un problema abruzzese, è un problema dell'Umbria, dell'Asia, della Toscana, della Sicilia, insomma è un problema enorme, bisogna trovare delle soluzioni, delle soluzioni che vanno ricercate in un abbattimento selettivo ma che deve essere permesso anche nelle zone dove oggi non è permesso, perché il problema di fondo poi è quello che c'è questa grande riproduzione su un territorio che oramai diventa più ingestibile che solo quella delle aree park, delle aree protette, dove i cinghiali, tutti gli ungolati, ma per l'Abruzzo sta nascendo anche il problema dei lupi e anche il problema degli orsi, oramai diventa un'emergenza, che non è solo un'emergenza che riguarda l'agricoltura o gli incidenti stradali, ma riguarda anche alcuni tipi di malattie che si cominciano a diffondere, che cominciano a preoccupare il servizio igiene e della salute. Credo che, e mi auguro che anche nei settori ambientalisti si giunga alla considerazione che oramai è un numero troppo elevato, peraltro in Abruzzo non sono neanche nostri i cinghiali perché sono stati importati e voglio dire quindi non è che c'è una difesa della biodiversità che ci debba interessare, in questo caso addirittura parliamo di un qualcosa importato, un qualcosa che non ha nulla a che fare con il nostro territorio e che peraltro si sta ramificando in maniera troppo impressionante che deve essere arginato.